Questa mostra si inserisce perfettamente bene nonostante questo apparente contrasto tra il moderno e l'antico. Antico e nuovo è un gioco di parole ma è anche una realtà in questo contesto così antico e ristrutturato splendidamente dal seminario nel 98 anche con delle inserzioni piuttosto innovative. Abbiamo scelto dunque di installare questa mostra nel biegno della cultura che il cardinale ha inaugurato e Arcabas ci è sembrato l'autore più opportuno in questo senso. Nelle sue tele le piccole cose che lui descrive quotidianamente, piccoli oggetti che fanno parte della quotidianità di un artista ma anche della quotidianità di ciascuno di noi, ritroviamo esattamente la capacità di saper scorgere dietro queste piccole cose il pensiero di Cristo, ovvero colui che dietro ogni cosa sa vederne la bellezza. L'intento è un po' questo, la mostra che è intitolata Nutrire il mondo con la bellezza, ha esattamente l'intento di donare a chi visiterà questa mostra la capacità di riconoscere la bellezza che c'è nella propria vita, soprattutto la bellezza che siamo noi. Ci sono delle ispirazioni particolari, per esempio un ciclo dalla crucifissione alla risurrezione oppure alle nostre spalle, qualche cosa che è stato ispirato da Bernanos, il grande scrittore. Arcabas è ritenuto dalla critica uno dei maestri d'arte sacra contemporanea, benché lui rifiuti questo concetto di sacro, strettamente parlando, non si può non riconoscerne evidentemente la spiritualità profonda. Lui comincia ogni mattina con un'ora di meditazione sulla Bibbia prima di cominciare a dipingere e da questa si fa ispirare nel suo sguardo sul mondo. È tutto quest'oro che ci circonda, che rappresenta esattamente lo sguardo che Dio sa dare all'artista perché riveli qualche cosa della bellezza che Dio ha messo in ogni creatura. E dunque questo percorso che Arcabasso ha compiuto nella vita da un aspetto figurativo poi ad uno totalmente astratto, per arrivare a questa sintesi che noi oggi possiamo ammirare di figurativo e astratto insieme, aiutano il visitatore ad entrare nel proprio mondo, a riconoscere dietro il figurativo della vita anche l'astratto ma reale e concreto della presenza di Dio. Questo è uno dei quadri più apprezzati. Cosa rappresenta e comunque qual è la cifra simbolica che poi unifica questa grande mostra? Questo è uno dei quadri certamente più apprezzati, tanto che è un quadro che Arcabas personalmente tiene nel proprio salotto. Quindi abbiamo scelto di installarlo in questa posizione per la figura di maternità che rappresenta. Il sole nel ventre è uno dei quadri straordinari con cui Arcabasso riesce a dipingere la grandezza di Dio nella naturalità delle cose. Questo sole che questa donna possiede, ma in qualche modo non trattiene per sé, rappresenta bene l'immagine di una maternità che colpisce poi il visitatore immediatamente collegandola alla Vergine Maria che sta proprio sopra di lei. Abbiamo scelto questo quadro quasi come immagine della mostra perché ci sembra che meglio di ogni altro oggi possa rappresentare la quotidianità in cui viviamo, che spesso è gravida di un sole che non sappiamo generare e speriamo di imparare da lei a farlo. Appunto perché la realtà può essere più bella di quello che appare e bisogna dirlo, e bisogna creare anche una cultura della bellezza. I giovani sono affascinati forse da questa mostra, oltretutto si stanno impegnando tanti giovani. La straordinaria bellezza di questa mostra è anzitutto la passione di tante persone che ci stanno dietro. La mostra nasce da un'amicizia con Jean-Marie Piro in Arte Arcabasso, che è venuto qui personalmente nonostante i suoi quasi 90 anni, con molta fatica per scegliere dove installarla, e abbiamo fatto questa scelta un po' strana, se vogliamo, che è quella di installarla in una chiesa, ma perché vogliamo che questa diventi per il visitatore anzitutto un'esperienza spirituale, prima ancora che artistica. E forse è anche questo il segreto che ha appassionato molte persone. Ci sono 150 volontari che tengono aperta quotidianamente la mostra fino al 6 gennaio, e soprattutto, con mia grande sorpresa, molte scuole si sono appassionate al tema. Chi nel campo educativo vive opera quotidianamente sa la fatica che si fa per cercare di educere da ogni ragazzo la bellezza, per convincere il ragazzo della bellezza che lui stesso è per se stesso, anzitutto. E quindi forse questo è stato il segreto che ha mosso molti insegnanti, è coinvolgere, direi ormai, migliaia di alunni delle scuole che stanno lavorando sull'artista stesso e impiegheranno il proprio tempo qui come guide per i propri coetanei o per le classi della propria scuola. Per educarci al pensiero di Cristo abbiamo pensato di creare degli eventi, anzitutto, che aiutassero a comprendere la bellezza di ciò che viviamo quotidianamente, e quindi la bellezza dell'amore, la bellezza del lavoro, la bellezza del nostro tempo, la bellezza del creato. Tutto questo sarà fatto con linguaggi differenti, con il teatro, piuttosto che con la poesia, piuttosto che con un salotto di conferenza. Canto a questo abbiamo pensato che però fosse opportuno anche immaginare degli itinerari più specifici per età, e quindi anche per i bambini dell'iniziazione cristiana sono previsti cinque itinerari su cinque temi che selezionano alcuni quadri, così anche per i giovani, insieme al gruppo Pietre Vive di Milano, abbiamo pensato alcuni itinerari per accompagnare i giovani a scoprire la bellezza della propria quotidianità attraverso alcune pitture.